Tra le storie più belle di questa ottava edizione del premio Best Practices per l'innovazione si segnala quella di Franco Marano e della sua azienda Trelleborg, giunta qui qualche anno fa per cercare di comprendere meglio questa realtà da vicino. Io ho partecipato lo scorso anno come ospite e quest'anno dopo l'esperienza avvincente e coinvolgente lo scorso anno ho portato anche alcune delle persone che lavorano con me, con le quali lavoriamo, proprio perché potessero vivere in questo ambiente l'esperienza che io l'anno scorso ho potuto toccare con mano, cioè la possibilità di vedere che l'Italia è in grado di esprimere, quello che è in grado di esprimere in Italia, il buono che c'è in Italia in manifestazioni organizzate su base spesso volontarie come in questo caso e che danno la possibilità alle persone di dare vetrina alle persone e alle idee e come hai accenato tu poco fa, anche come un momento formativo in un contesto di mercati maturi come quello in cui operiamo noi, avere questo lume, questa lampadina che ti si accende ti fa capire che c'è la possibilità comunque anche in Italia, anche in una situazione difficile e in un mercato pieno di difficoltà, c'è comunque sempre la possibilità di reinventarsi, di mettersi in gioco, di utilizzare la cosa più importante che abbiamo, cioè le idee, la testa, per poter sopravvivere e vivere meglio è stato il filo conduttore che ci ha portato dall'anno scorso a quest'anno ad avere una presenza prima mia e oggi appunto di buona parte dell'azienda che rappresento. Voi di cosa vi occupate? In particolare la nostra divisione si occupa di sistemi di tenuta, quindi volgarmente guarnizioni ad alto contenuto tecnologico e con materiali che tendenzialmente ruotano intorno al tecnopolimero, alla gomma o ai tecnologi polimeri in generale, per applicazioni che vanno dal biomedicale fino all'aerospaziale e al settore industriale, quindi siamo presenti in tutti i settori, il nostro valore aggiunto è sempre l'innovazione sia nei materiali che nei prodotti che nella soluzione che proponiamo, quindi spingiamo molto sull'innovazione e anche la presentazione che oggi abbiamo presentato, la dottoressa Fantoni che è il nostro lettore vendite e marketing, ha presentato un nostro progetto dove in modo innovativo, riteniamo noi, abbiamo portato i concetti della lean manufacturing all'interno dei processi di vendita, riorganizzando praticamente la struttura commerciale di back office e questa è quindi l'innovazione e la molla che ci spinge nel nostro cammino, sul mercato italiano in particolare. Un aggettivo rapidamente per il premio? Direi pieno di fermento, stimolante, trascinante, brillante, molto interessante, innovativo, sì. Coinvolgente, entusiasmante, corale.